Vedi quel portone? È lì al secondo piano. A quanto ne sappiamo è lì che abita la sua ultima fiamma. E stanotte è stato visto con me. Questo che fa? Cambia spesso donna? Pare sei un esperto anche in questo, oltre alle truffe e al traffico di stupefacenti. Bravo, Battistone. Ti sei ambientato in fretta. In fretta? Prendi in giro, Pietro. Che dici, andiamo? Sembra tutto tranquillo. Non dobbiamo neanche fare la fatica di salire, è lui. Fermo! 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 Stai in mezzicolo Ma che siete? Qualche informazione vogliamo carambolare Ma che carambola? Io mi chiamo Sabino Inperlato Ah, voglio vedere Come ti chiami C'è un errore, sicuro, eh? Sì, allora perché scappavi? Avrei voluto vedere voi Due persone che corrono dietro Sì Questo lo tengo io, dai